Un saluto a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Come promesso, chiedo scusa, nel video precedente adesso vi andrò a mostrare un intervento che io ho deciso di fare sulla mia armatura. Allora mettiamo subito in che una cosa ragazzi. Nessuno di voi è obbligato a fare questo intervento come nessuno di quelli che chiaramente io da mesi ormai propongo, qualora a mio parere ritenga io di dover migliorare la funzionalità e la stabilità di questa splendida armatura che è bella da sé. Ok ragazzi, non ci dobbiamo giocare, lo abbiamo detto già più volte, ci mancherebbe. Seppur si muove sarà poi, statica. E una cosa prima che mi dimentico, attenzione quando andrete a chiudere l'armatura, decidete se lasciare dentro la batteria nel reattore Arche oppure toglierla. Io vi consiglio di toglierla, perché una volta chiuso tutto poi dovrete smontare Iron Man per poter levare la batteria, perché lasciare la batteria per troppo tempo dentro non è una cosa bella. Ok ragazzi, allora detto questo, come vi avevo anticipato, se volete fare questo tipo di intervento vi serviranno le viti FM, io ne ho di più semplicemente perché sto facendo, come sapete, per chi mi conosce, tre Iron Man. Quindi le viti FM con il suo dadino che avete avanzato nella costruzione della spalla nel fascicolo numero 10. Queste sono le rondelle che io ho acquistato ma qualora non le aveste non vi preoccupate, anche se non c'è la rondella, secondo me è sempre meglio di quello che è presente adesso qui all'interno. Poi della carta vetrata un cutter o una limetta per unghie della vostra mamma, importante che sia abrasiva, non troppo. E adesso andiamo a vedere cosa intendo fare. Allora guardate qui, innanzitutto come vi ho detto fate attenzione perché il braccio questo, per capirci, questo poi, se lo fate prima è meglio, va girato in questa maniera, cioè con la parte smussata, lo potete fare anche dopo per carità, però se lo fate prima non lo fate dopo, con la parte smussata perché non sono uguali questi dilatti qui, dietro è la parte diritta davanti al torace perché poi andrete a inserire la spalla in questo modo qua, vedrete. Allora, guardate soltanto il movimento quanto è duro, ecco perché ho deciso di intervenire, guardate come si sposta qua, vedete? Fa veramente fatica e quello che più mi dispiace, poi per carità, magari non servirà a molto, ma io lo faccio, ve lo dico, è che questo è plastica. Quindi tutto lo sforzo che farete anche soltanto per fare dei semplici movimenti, vedete? Adesso io non posso ovviamente farlo perché mancano le due viti, una e due, che però vanno a chiudersi nella plastica. Questo non è metallo, ve lo ricordate? Quindi una volta che voi andate a mettere questo, lo sforzo che farete qui è abbastanza eccessivo. Guardate la plastica dentro, questa come si muove. Allora, io cosa faccio ragazzi? Ve lo dico subito. Io faccio questo. Non so quanto verrà lungo questo filmato, non lo so. Se non volete guardarlo, non lo guardate, se non volete intervenire, non intervenite, ma io smonto nuovamente questo pezzo qui. Non è un problema smontarlo. Guardate, due viti qua. Via. Due viti qua. Non vi sbagliate soltanto poi per le viti perché queste che hanno il filetto più piccolo vanno montate sul metallo. Queste, doveste mai mischiarle, che hanno il filetto più grande, vi faccio vedere, vanno montate nella plastica. Non vi potete sbagliare? Comunque, per ogni mischiarle, quelle che levate da qui lasciatele inserite qua dentro e siete a posto. Andiamo ancora a smontare questo. Questo, come vi ho detto, è un canale diverso. Io, come ho anche poco fa scritto ad Andrea e a Supertech. Oh, mi amate o mi odiate? Oddio, speriamo nel solo dei due che magari mi seguiate. Ecco, questo mi fa piacere. Vediamo se riesco a non smontarlo perché sto facendo tutto in diretta, non ho preparato nulla. Se non andrò a togliere anche soltanto un lato, non è un problema. Sì, vado a togliere anche questo. Guardate, voi direte, ma devo smontare di nuovo tutto? No, ragazzi, non dovete smontare niente. Quello che volete fare, fate. Quello che non volete fare, non lo fate. Io questo filmato ve lo faccio soltanto vedere perché mi sono reso conto che ho migliorato la funzionalità e la resistenza. Ok, vedete, basta tenerlo così. Questo lo sfiliamo e abbiamo già fatto tutto. Ok, ragazzi, guardate adesso. Questa è da 4, una chiave da 4. Voi non avete idea dello sforzo, ma lo avete anche voi. Immaginatevi sul braccio. Allora, cosa facciamo? Guardate. Andiamo a svitare non tutto da una parte, un po' alla volta così lavora bene anche nello smontaggio la plastica e poi andiamo a toglierla. Non ci vuole niente. Non sono incollati pezzi, per cui basta svitarli. Guardate, prima cosa che ho fatto. Guardate qua. Non so se riesco a farvi vedere. Prima cosa che ho fatto perché l'ho fatto su un altro che ho, sapete che ne sto facendo 3. Vedete qui che è tutto irregolare qui. Vediamo se riesco a farvi sentire. Sentite, il gradino. Questo gradino io l'ho tolto nell'altro. Adesso lo tolgo anche qua. Allora, poi mi dicono che faccio i filmati lunghi. Eh ragazzi, quello di prima è durato quanto? 11 minuti? E questo non so quanto durerà. Penso parecchio. Però, se alla fine, anche soltanto perché, provate ad andare a vedere che fatica fanno quelli che sono più avanti di noi a muovere il braccio. Perché è vero che non ci dobbiamo giocare, ed è la seconda volta che ve lo dico. Però è anche vero che si deve muovere bene il braccio. Allora, guardate qua. avete visto? Io non ho assolutamente consumato qui o qui, ma ho levato solo il gradino. Basta, non dovete fare nient'altro. Poi prendete anche questo. Vi ricordate le viti che vi ho detto? Ecco, questo ragazzi fate voi. Io ho deciso di farlo perché io sono fatto così. A me voglio avere le cose fatte come dico io. Che non necessariamente non è che sono giuste, come dico io. Mi piace così perché secondo me tiene molto di più. Quindi vado a levare questa vite che, se ricordo bene, forse è la QB. La tolgo. Poi, come vi ho detto, prendete l'FM. Ok, ragazzi, guardate. Prendete l'FM. Ho lasciato il flash acceso al telefonino. Chissà se si vedrà meglio. Ve ne faccio vedere uno e poi faccio la stessa cosa sull'altro, ragazzi. Così poi metto la pausa e cerco di non farlo troppo lungo. Allora, questo più la rondellina. Io la metto, ma ripeto, non siete obbligati. Se c'è è meglio. Comunque non siete obbligati. Perché io voglio fare questo lavoro? Perché quando sono andato a stringerne una, ma dov'è l'immagine qua? Fuoco, orca miseria. Quando sono andato a stringerla, mi sono reso conto che l'unico pezzo che prende è questo qua, lo spessore. Questo dovrebbe tenere tutta la spalla, ma non scherziamo, ragazzi. Ma non scherziamo. Guardate un po'. Andiamo a mettere questo all'interno, l'FM. Ah, do la misura per chi l'avesse persa. Questa è anche troppo lunga, forse è stata anche più corta andava bene. Poi capirete perché, ma va bene lo stesso. Questa è la misura in millimetri. Per i nostri amici americani e inglesi è questa. Eccola qui. Ok, torniamo in millimetri. Questo è lo spessore. Ok? 1,9 mm. Che per i nostri amici americani e inglesi è questo. Ok? Perfetto. Ripeto, se fosse più corta che non l'avete, ma se lo state facendo Iron Man dovreste sicuramente avere ancora due di queste, una per ogni spalla in più. Allora, andiamo semplicemente, guardate, molto velocemente. A mettere questo. A inserire questo. Così. Guardate, proprio la sua misura. Vi fermate a filo. Non andate oltre perché se andate, se lo avvitate tutto, poi non entra la rondella, se avete la rondella. E se non avete la rondella, comunque non vi entrerebbe il dado. Quindi andiamo a mettere prima la rondella, se l'avete, la misura ve l'ho data, ragazzi. Così. Eccola qui. E poi andiamo a mettere il dado. Il dado meglio se lo mettete con qualcosa di non calamitato. Perché vediamo se ce la faccio con questo calamitato, ma poi ora mi si attacca tutto. Vediamo un po'. Ce la faccio. No, vedete? Va bene. Mettiamoci qualcosa di non calamitato. Se ce la facciamo. Praticamente non posso avvitare prima la vite, perché questo perno qui mi impedisce poi, questo perno qui mi impedisce poi di inserire il dado da sopra, ok? Ecco perché dovete farlo prima. Io sto tribulando un po' semplicemente perché devo inquadrare, sto pensando a cosa vi devo dire, ma voi ci mettete pochi secondi a fare questa operazione. Vabbè, facciamo così. Ecco. Vediamo se riesco. Non ci vorrei mettere quindici minuti per mettere questa benedetta vite. Cribbio. Allora. Ecco, guardate. Vedete? Adesso vi faccio vedere. Sto evitando il dado. Questo l'abbiamo fatto entrare dentro. Perfetto. Io, come vi ho detto, ve ne faccio vedere solo uno. L'altro è identico, quindi poi fermo il filmato. Eh, ragazzi? Guardate. Guardate. Non si muove. Guardate questo. Guardate questo. Non si muove. Sono le dita che si muove, ma non questo. Perché? Perché è un'altra cosa, capite? Lo capite anche da voi. Quando andrete a fare il movimento della spalla. Comunque, detto questo, andiamo a inserire questo all'interno. Poi, con della cera d'api. Non importa il colore, eh. Adesso io ce l'ho rossa perché sono profumate. Queste qui mi piaceva questa fragranza. Ma va benissimo qualsiasi colore. Andate a fare questo lavoro qui. Guardate. Non olio, eh. Cera d'api non rovino la plastica. Vedete? Ok? Inserite qua dentro. E fate la cosa inversa di prima. C'entrate chiaramente il solito forellino. Eccolo qui. Perfetto. Guardate. E tre viti. Non so neanche, ragazzi, non è importante che venga bene il filmato. Quello che è importante è che passi il perché sto facendo questo. È un po' come la modifica che ho fatto sotto lo stivale. Importantissima. Per dare stabilità all'armatura. Però, ripeto, nulla è indispensabile. Non è che tutti faranno questa modifica. Ma adesso vi faccio vedere una cosa, però. Non è che Michele se le tira fuori così dal cassetto e dice ok, facciamole. No. Guardate. Guardate anche una cosa. Non so se avete notato una cosa. Io ho avvitato tutto. Loro ci dicono di lasciarlo staccato. Ragazzi, provate a vedere alla fine. Il braccio non vi starà su. Ve lo garantisco. Non vi starà su il braccio. Se mettete una posizione con il braccio che è pesante e poi più è lunga la leva più il peso è maggiore. È pesante. Guardate. Comunque voi se volete non lo stringete tutto. Sentite voi. Adesso questo qua se lo stringo tutto, tutto, perché poi alla fine si asseste e sarà da stringere tutto. Questo è da fare ancora. Non confondetevi. Questo se lo stringo tutto non lo muovo più. Questo che l'ho stretto e ho levato tutto in più, quello che c'era in più, guardate. Guardate. Si muove ed è resistente, ma si muove. Questo non si muove proprio perché è da fare ancora. Cioè non provo se non lo rompo. Altrimenti lo rompo. Vedete? Allora, una volta che mettete questo, io adesso non posso fare leva. Una volta che mettete questo all'interno, perché non posso fare leva adesso? Perché se faccio leva, guardate cosa succede qua che in plastica mancano le viti. vedete? Spaccherei il guscio della spalla. Una volta che faccio leva, questo, mi terrà sul braccio, ma non sentite quella plastica che sentite nei video che vedete di quelli più avanti di noi. Mamma mia che unchi che mi sono fatto prima con il nero. Guardate qua della cera. Sembra che ho maricciato il carbone. Allora, vi dicevo, fanno molto fatica. Fateci caso. È da lì che ho capito. Fateci caso quando li spostano o vanno giù le braccia o non mantiene o non riescono a muoverle. Questa è quella che ho fatto. Questa è quella che devo ancora fare. È impossibile. Avete visto che ho chiuso? Perché lasciare lo spazio come dice l'azienda non va bene, ragazzi, perché poi si asseste e cade. Cosa fate? Poi smontate tutta l'armatura. Voi vedete cosa volete fare. Io, ragazzi, vi garantisco, Michele vi garantisce che è meraviglioso. Non è molle, attenzione, non è molle, è dinamico, si muove, però mantiene la posizione. Guardate. E soprattutto il rinforzo qui. Ragazzi, che vi devo dire? Non è che adesso mi posso mettere a rimontare tutto. Non ci vuole niente a rimontare. Io finirei quel video che è già durato quasi 20 minuti. Sinceramente pensavo di più. Meno male. E ragazzi, Michele vi saluta. Non devo dirvi più nulla. Stavo pensando ma no. Non vi devo dire niente. E boh. Che vi devo dire ragazzi? Più che dirvi se avete piacere di iscrivervi e di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Ok, ragazzi. Grazie, grazie a tutti davvero. Grazie. Sono a 650 iscritti. Veramente, per carità, quelli che hanno 100, 200, 300 mila iscritti si fanno una risata e li posso anche capire. Ma per me è tanto. E lo devo a voi. Grazie, ragazzi. Un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ciao. Arrivederci al prossimo video.